Un ulteriore tuffo nel passato, indietro di sette anni. Alle immagini arrivate dalle zone colpite dal sisma e le scosse percepite dal 24 agosto in poi, nei cuori degli Aquilani un'ulteriore colpa ha fatto tornare alla mente ricordi e sensazioni legate al post-terremoto 2009. È quello legato al corteo storico della perdonanza che ieri si è svolto in forma estremamente ridotta per rispetto delle quasi 300 vittime del sisma che ha devastato il centro Italia. Ridotta anche la presenza dei cittadini che hanno seguito il corteo e poi la messa e il rito dell'apertura della Porta Santa, poco più di 3.000 persone contro le quasi 15.000 dell'anno passato. Ad influire sicuramente anche le polemiche dei giorni scorsi tra prefetto e sindaco dell'Aquila sulla sicurezza del centro storico che ha segnato profondamente i rapporti tra le due istituzioni. A portare la bolla del perdono emessa da Papa Celestino V, la dama Elonora Ciocca, accompagnato dal giovensegnore Ferdinando Carluccio, entrambi preceduti dalla dama della croce Francesca Pancella. La porta santa della Basilica di Collemaggio, attualmente in ricostruzione, è stata aperta dal cardinale Edoardo Menichelli, rappresentante della Santa Sede e potrà essere attraversata fino a questa sera. Ridotta all'osso la parte storica del corteo, così come quella civile, anche se rispetto alle premesse iniziali, più di qualcuno tra consiglieri, assessori e rappresentanti delle circoscrizioni ha chiesto e ottenuto di sfilare. Per questo il vice sindaco dell'Aquila, Nicola Trifuoggi, ha atteso l'arrivo della bolla, seduto nella platea di sedie posizionate sul prato, antistante alla Basilica di Collemaggio. Non ho sfilato, ha spiegato Trifuoggi, perché ritengo che in una circostanza come questa era necessario, come tra l'altro era stato deciso, che il corteo fosse sobrio e il più possibile limitato, per cui penso che l'amministrazione comunale sarebbe stata adeguatamente rappresentata dal gonfalone di stato allutto, dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale. Il resto, a concluso Trifuoggi, mi è parso una forma di esibizionismo che, personalmente, ritengo deprecabile.